Musica Hanno trovato questo format di Architetty Work estremamente accogliente e positivo c'è veramente la possibilità di valorizzare il proprio prodotto al meglio Tengo un'iniziativa molto interessante che neanche si differenzia bene per la parte innovativa in spazi concentrati però si riesce a dare un'idea dell'innovazione che neanche si può essere all'interno del progetto dell'architettura Continuiamo a scegliere anche l'anno prossimo abbiamo già in programma diverse date che stiamo fissando con Architetty Work perché troviamo che sia una formula estremamente azzeccata che sia per le aziende che per i visitatori Musica Musica La mia impressione su questa edizione di Architetty Work è ottima nel senso che ovviamente è un momento che ci voleva è un momento importante Musica 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 Musica